Un saluto a tutti qui da Copippo, non riesco mai a dirlo un saluto a tutti E allora cambialo No, seri, seri Un saluto a tutti qui da Copippo Allora, oggi video speciale perché siamo in compagnia di Cuori di Cioccolato Ciao Infatti lui fa video sulla cucina, fa delle predibattezze Infatti è stato in Sicilia e ci ha portato dei video con delle chicche straordinarie Se volete andarla a vedere andate sul suo canale, io metterò il link in descrizione Allora, cosa faremo oggi? Dobbiamo impostare il PC di Cuori di Cioccolato Per fare le dirette Perché lui andrà a streamare Come un dannato Ci provo Ci provo Quindi andremo a impostare l'iPhone da utilizzare come camera E il PC per andare a leggere i vostri commenti che dovete essere almeno un milione A commentare e a lasciare tutti i mi piace del mondo Comunque Facciamolo cadere perché così almeno ti pago l'iPhone nuovo Brava Allora, avvicinatevi così andiamo a vedere in dettaglio come possiamo fare questo streaming Venite con noi Allora, come prima cosa dobbiamo prendere il nostro smartphone E entrare direttamente su YouTube Mi raccomando, dobbiamo avere lo stesso account Sia sullo smartphone che sul PC o Mac che utilizzate Allora, qui in alto a destra Troverete l'icona con la camera Quindi la clicchiamo E vi apparirà dal vivo O streaming se ce l'avete in inglese Quindi clicchiamo su dal vivo E qua dobbiamo impostarci il tutto Dobbiamo mettere il titolo del nostro streaming Quindi noi in questo caso facciamo test Ok, dobbiamo impostare anche se è destinato ai bambini In questo caso mettiamo nono, non è destinato ai bambini Quindi noi lo lasciamo così al momento Quindi facciamo avanti Ok, solidiamo per la miniatura Ok E trasmettiamo dal vivo Mentre trasmettiamo dal vivo Ok, ci siamo Siamo online Lo tieni tu? Sì Ok Mentre siamo online Noi vorremmo vedere anche i nostri messaggi Che ci arrivano nella chat Noi dobbiamo entrare su YouTube Studio Vi faccio vedere dall'inizio Adesso entriamo con l'account di Cuore di Cioccolato Perché stiamo streamando con il suo account Andiamo Nella sezione video Andiamo su pubblicati E qua dovremmo vedere la live stream Al momento non c'è Ma perché dobbiamo aspettare solo il tempo che carica online Quindi aspettiamo un attimo Ok Dopo aver aggiornato la pagina Come avete visto io sono andato ad aggiornare la pagina Lui ci ha messo più o meno una trentina di secondi ad apparire Quindi andiamo a cliccare nel nostro video Che attualmente è in streaming Qua possiamo aggiungere la nostra descrizione Qualsiasi cosa Ok a questo punto dopo che abbiamo aggiunto la nostra descrizione I nostri tag così ci trovano Noi andiamo Nel link che troviamo qui Lo clicchiamo E apparirà il video Apparirà il video In streaming Quindi qua possiamo vedere direttamente la chat Di quelli che ci scrivono Come aprire Noi non vogliamo guardare il nostro video Noi vogliamo principalmente guardare la nostra chat Quindi andiamo qui nei tre pulsantini E facciamo apri chat in una finestra nuova Ok facciamo questo Questo possiamo anche stopparlo Non c'è bisogno che lo facciamo andare Quindi da qui possiamo aprirlo un pochettino di più Così possiamo vedere tutte le nostre chat che appariranno qui Quindi nel momento che qualcuno ci andrà a scrivere Adesso lo faccio io Scrivo per esempio ciao Mando l'invio Lui apparirà direttamente nel vostro schermo dove state streamando E quindi è un'ottima cosa Così vi accorgete dei messaggi che vi arrivano E voi andate nel vostro pc E potete rispondere Quindi avete un totale controllo della vostra diretta A questo punto cosa dobbiamo fare Se vogliamo stoppare la nostra diretta Facciamo semplicemente X Qua sopra in alto Salutiamo Ciao Interrompiamo Confine E lui andrà a caricare tutto il video che avete fatto Lo caricherà nel vostro account E tutti potranno potranno vedere il vostro video Quindi a questo punto io vi invito ad iscrivervi al canale E lasciare tanti dei mi piace E mi raccomando andate a vedere anche il suo canale Cuore di cioccolato Pre di battezze Dai ci vediamo alla prossima con un nuovo video Ciao 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 Ciao